Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo nel giardino dei frati Cappuccini di San Giovanni Rotondo per raccontarvi qualcosa di bello, perché in questo periodo Padre Pio si trovava nel convento di Venafro, siamo nel 1911 e venne l'idea proprio al suo ministro provinciale Padre Benedetto di far fare una fotografia a questo giovane frate, che cosa era successo? Questa foto risale all'ottobre del 1911 perché fu proprio la scienza medica per la bocca del celebre dottor Antonio Cardarelli a decretare la fine di questo ragazzo, infatti comunicò al Padre Benedetto durante la visita che fece nell'ottobre del 1911 a Napoli, comunicò che questo giovane frate ormai aveva un mese di vita, era spacciato. Padre Benedetto, sempre a Napoli, accompagnò un Padre Pio a via Monte Oliveto dal fotografo Germoglio per scattargli questa fotografia. Ecco, la vediamo. Si tratta di una fotografia che è assai sfruttata da tantissime pubblicazioni, dove il polvo emerge dallo scollo del cappuccio, incorniciato dal nero di capelli corti, dalla barba che già spuntata da poco avvolge il mento, baffi ancora giovani che si incurvano sul labbro, le labbra chiuse, sembrano nascondere una vera e propria amarezza, gli occhi sono accentuatamente aperti, forse sbarrati verso un punto invisibile. È un volto, possiamo dirlo, che tradisce qualcosa che pesa, che dà sofferenza e lascia sorpresi nel suo mistero, un dramma, un dramma nascosto dietro a quel volto che attanaglia la sua stessa anima. Possiamo dire che, ed è Ferdinando D'Ariese nella sua biografia, che andando a spiegare un po' questa immagine di Padre Pio, del giovane Padre Pio, fa riferimento al grande martirio degli scrupoli che aveva allora il giovane frate Minore Cappuccino. Ecco, oggi vi abbiamo voluto raccontare questa immagine di Padre Pio, che risale al 1911, dove Padre Pio doveva stare solo un mese a Venafro, in realtà stette circa 40 giorni. Cosa capitò, ve lo racconteremo nelle prossime settimane, ma agli inizi di dicembre del 1911, e proprio l'8 dicembre, Padre Pio torno di nuovo a Pietrelcina perché stava male, ma alla fine poi, a casa sua, si ristabilì.